Certo, il dato dell'Italia dei Valori è un dato molto alto, è un dato su cui poi magari faremo anche alcune considerazioni su da dove viene. Io prima di tutto però non ho capito bene, mi sono persa forse un pezzo, ma ho visto dei dati sbagliati io o non so che film abbia visto il consigliere Antichi, perché dire che il centrosinistra vince ma non vince bene, che il centrodestra perde ma non vince bene.